Interessante, vero? Dicono che questa stanza sia infestata da un demone chiamato Bobos. In questa stanza ogni mille anni succede quello che deve succedere. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel commento e vi piace, in questo video non c'era tanto da fare, ma comunque forse è vera questa leggenda, ne vedremo, visto qualcosa lì nella tenda, beh, forse è vero o forse non lo è. Grazie. 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 Grazie.